Oggi inauguriamo la mostra fotografia dentro il mare, un progetto di sensibilità a difesa del nostro mare e del suo ambiente. Quello che proponiamo è un itinerario visibile a tutti, posizioneremo queste foto subacquee sott'acqua e saranno accessibili durante tutto l'arco della giornata nelle acque di piazza Bobbio. Siamo esattamente qui davanti al teatro del mare in un fondale sabbioso di circa tre metri quindi visibile tranquillamente con una maschera, boccaglio anche con l'utilizzo di un soup e qualsiasi altra cosa. Quello che presento è un'esposizione di fotografia di pesci che sono pesci esclusivamente di questi fondali. Quindi sono loro i protagonisti e mi sembrava giusto ospitare la mostra direttamente al loro ambiente. in Toscana forse è l'unica ancora diciamo originale mostra presentata. In Italia ci sono state alcune ma molte a profondità. Questa si trova solamente a tre metri di profondità quindi con maschera, bocca alle pinne. Chiunque che sappia notare ma anche con l'aiuto di soup e non sappia notare può visitare tranquillamente la mostra che è aperta tutti i giorni fino al 31 agosto durante l'ora solare. a Quello che vi propongo è un'esposizione di pesci perché sono loro i protagonisti di questo mondo marino e al quale sono molto legato. La bellezza della natura parte proprio dal loro, dal loro comportamento, dai loro colori e dalle loro bellezze in assoluto. Ad esempio c'è lo scorfano indicato come il pesce diciamo brutto in generale invece è il pesce più bello in assoluto che sforgia una livrea bellissima da vedere e ve la presento. Grazie a tutti. A volte si scende sott'acqua è un mondo particolarmente uni, originale che è come un safari, è come inoltrarsi nella savana e non sa mai cosa ti aspetti. Quindi arrivano pesci, arrivano quelli più curiosi, quelli meno, quindi c'è da fare un certo tipo di lavoro anche per quelli che sono molto difficili da incontrare e da scoprire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.